Io credo che sempre più è importante che dei sistemi di corporate governance aggiornati all'avanguardia siano implementati nel numero più grande possibile di aziende. La nostra esperienza è un'esperienza positiva, nel senso che è un sistema con dei punti di controllo all'interno del processo decisionale, per cui sì, c'è un management che propone e che porta avanti all'ordinaria gestione, però poi c'è un consiglio d'amministrazione formato da consiglieri competenti e di varia estrazione che verifica e partecipa alla presa di decisioni importanti. Credo che questo porta salute nel sistema aziendale italiano perché credo che sempre più bisogna passare da imprese tipo familiare ad imprese invece governate secondo processi rigorosi di presa di decisioni. Oggi il sistema aziendale può fare a meno della politica? Io penso che ognuno fa la sua parte, quindi l'Italia, i cittadini, incluse le imprese, non possono fare a meno della politica perché la politica deve fare il suo lavoro, deve fare bene, però sicuramente le imprese possono fare a meno della politica dentro le imprese, se questa è la domanda. Non vedo nessun particolare necessità affinché la politica sia dentro le imprese. Serve invece una politica che faccia la politica del paese, dell'Europa, delle varie dimensioni in cui si deve esprimere. Quella è importantissima perché le regole poi vengono fatte dalla politica, le regole dentro le quali noi... Grazie. Grazie. Grazie.